Cuccioli! Abbiamo una nuova missione! Salva la Paw Patrol! A rapporto! Durante un'escursione Jake ha visto un'aquila con un'ala ferita. Paw Patrol! Quell'aquila ha bisogno del nostro aiuto! Sky ha una steccatura speciale in grado di aiutare l'aquila. Sky può consegnarla a Marshall sul treno. In seguito Marshall può scalare la montagna e aiutare l'aquila usando i suoi raggi X. Rubble può usare la sua escavatrice per liberare il passaggio. E Rocky può usare il suo camion del riciclaggio per creare un nuovo ponte in modo da aiutare Marshall a scalare la montagna. Bene Paw Patrol! Salviamo l'aquila! Sky! Dobbiamo aiutare l'aquila! C'è un'impronta dorata qui vicino! Un'impronta dorata! L'hai ottenuta! Raccogli tutte le impronte dorate che trovi! Spendula Dovello! Super, Impronta vediamo Vuca Link! Usa la levetta sinistra per aiutare il tuo cucciolo a spostarsi in quella direzione Hai ottenuto i biscottini! Quale abilità dei cuccioli potresti usare? Fantastico! Come interpeccate i cuccioli potresti usare il cuccioli aiutare! வ Buon appetito! le rocce ostruiscono il passaggio non possiamo lasciarle così chiedi aiuto a rubble per spostarle scegli l'abilità dei cuccioli che ti potrà aiutare a proseguire proviamo qualcosa di diverso bene ora possiamo proseguire raccogli tutti i biscottini di una missione per ottenere uno speciale biscottino di riconoscimento guarda è una stazione abbandonata i treni non passano più da qui per tirare la corda verso sinistra muovi la levetta sinistra fai in fretta devi attraversare il passaggio prima che si chiuda c'è un infattimo lavoro ci siamo quasi hai trovato un'impronta dorata prova a trovarle tutte sky ha bisogno del tuo aiuto per portare la steccatura speciale a marcia sul treno scegli quale abilità dei cuccioli usare raccogli tutti i biscottini si va scegli l'abilità dei cuccioli che ti potrà aiutare a proseguire aiuto sky hai imparato a volare ottimo lavoro usa la levetta sinistra per evitare gli uccelli e le nuvole rallenteranno sky hai ottenuto l'impronta dorata raccogli tutte le impronte dorate che trovi ce l'hai fatta raccogli tutti i biscottini di una missione per ottenere uno speciale biscottino di riconoscimento perfetto ragazzi grazie grazie per Adesso che Marshall ha la steccatura speciale Aiutalo a portarla all'aquila così che possa tornare a volare Marshall, dottore Siamo a metà strada C'è un'impronta dorata qui vicino Trova tutti i biscottini che puoi Un'impronta dorata! L'hai ottenuta! Prova a trovarle tutte Hai ottenuto i biscottini! Vedi, il ponte è rotto Marshall può fasciare assieme i materiali di scarto per costruire un ponte Per aiutare Marshall, dottore, a usare le sue fasciature per riparare il ponte Questo ha davvero sistemato le cose Ora portiamo la steccatura speciale di Sky all'aquila Grazie! per tirare la corda verso sinistra muovi la levetta sinistra fai in fretta devi attraversare il passaggio prima che si chiuda ottimo lavoro ci siamo quasi aiuta marshall a portare la steccatura speciale all'aquila sulla montagna andiamo trova e raccogli tutto sto rilevando un'impronta dorata da qualche parte nei paraggi attraversare il passaggio hai ottenuto l'impronta dorata scegli l'abilità dei cuccioli che potresti portentoso il cancello più avanti è chiuso ma marshall può usare i suoi raggi x per analizzare le rocce e i cespugli e trovare la chiave aiuta marshall a usare i suoi raggi x e cercare fantastico scorri i raggi x sopra i cespugli e le rocce per trovare la chiave usa la levetta sinistra per scorrere lo scanner una volta trovata la chiave premi il tasto croce una volta trovata la chiave premi il tasto croce hai aiutato marshall a trovare la chiave ora proseguiamo per trovare l'aquila continuo a raccogliere i biscottini ogni volta che ne trovi uno un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti i biscottini che trovi per ottenere un biscottino di riconoscimento speciale quando torneremo al quartier generale. Grazie a tutti. Bene, ora possiamo proseguire. Grazie a tutti. Hai trovato l'aquila. Adesso Marshall può usare i suoi raggi X per capire cosa c'è che non va. Scegli l'abilità dei cuccioli che potresti usare. Quando trovi la frattura, premi il tasto croce. Posiziona lo scanner sopra la frattura. Ce l'hai fatta. Bene, Marshall ha applicato la steccatura all'aquila. è così felice di tornare a volare. Ottimo lavoro, Poupa Tral. Hai raccolto abbastanza biscottini da meritare un biscottino d'oro. Hai trovato tutte le... Hai sbloccato un'immagine? Puoi vedere nuovamente le immagini selezionando la... Puoi vedere nuovamente le immagini selezionando la...